Benvenuti, benvenuti, cari amici, siamo inviti in questo nuovo video Oggi andiamo a parlare di Shiba Inu Perché per me è una giornata importantissima Esattamente passato un anno Dai mio primo video su Shiba Inu E sono davvero successo delle cose direi assurde Che naturalmente al mio wallet Ma non solo, anche al wallet di tantissimi di voi Perché quel video fu visto da tantissimi E siete ancora in tanti a ringraziarvi Naturalmente l'unici che voi dovete ringraziare siete voi stessi Perché ci avete creduto come il sottoscritto Ho visto che anche ci sono tantissimi youtuber Che ancora continuano a dire che Shiba Inu è un meme Shiba Inu per me non è assolutamente un meme Secondo me lei verrà comunque un giorno in cui potranno vedere anche Shiba A perdere il 95-98% Ma sarà lì, lì che si vedrà chi avrà il coraggio ancora di accumulare Shib E se poi Shib tornerà ai massimi Sarà lì che potrà cambiare la vostra vita Naturalmente non sono nei consigli finanziari, nei consigli trading Ma io vi dico come sempre quella che la mia visione Oggi è una giornata importantissima Perché ho deciso di creare il mio primo NFT riguardo a Shiba Inu In particolare ho deciso di far sì che quel video che io creai al tempo Sia diventato un NFT Naturalmente io non lo metterò assolutamente in vendita Voglio holdarlo perché sono stato il primo in Italia Ad aver fatto un video su Shiba Inu E per cui ritengo che quell'NFT un giorno avrà un'importanza stratosferica Perché ce ne sarà solo uno Ok? In tutto il mondo E per cui penso che il prezzo decollerà Ho deciso di crearlo sulla blockchain di Oligon Così da non avere costi Ok per le gas fees Naturalmente se voi volete potete fare delle offerte Ora andrò a vedere l'NFT Però io non accetterò Già ve lo dico E infine andrò a vedere quello che è stato il primo video Perché penso che tantissimi di voi non l'hanno mai visto Eccoci qui su OpenSea Dove voi potete vedere quello che è il mio profilo Vi ricordo SAMU-BIT E questo è il mio indirizzo di Ethereum Per cui state attenti dei fake Perché inizieranno a girarne tantissimi Ci sono tantissime persone anche che vi scrivono su Instagram E non sono assolutamente io Per cui attenzione Ed eccolo qui il mio NFT Del mio primo video su Shiba Inu Che ho deciso di creare Naturalmente non l'ho messo assolutamente in vendita Perché ho deciso di holdarlo Però se voi volete Naturalmente potete fare delle offerte Per cui esso gira sulla blockchain di Polygon Così da non pagare fees E questo è un pezzo unico Perché io sono stato il primo YouTuber in Italia Ad aver parlato di Shiba Inu Sono convinto che nel tempo Questo NFT andrà ad aumentare di prezzo Perché? Perché secondo me Shiba Anch'esso aumenterà di prezzo Per cui ora vi lascio con il mio primo video Su Shiba Inu Naturalmente vi ricordo che ho anche costituito Degli altri NFT Al momento sono tre Il mio primo video in assoluto sulle crypto Ed il mio secondo video assolutamente sulle crypto E questi potrei anche venderli Per cui vi lascio il video Benvenuti benvenuti cari amici Siamo Ubiti in questo nuovo video Naturalmente come sempre vi ricordo di distruggere il bottone like Di iscrivervi al canale E per cui iniziamo subito Oggi parliamo di Shiba Ok una nuova coin Che potenzialmente potrebbe avere veramente Un potenziale devastante Andremo a vederla E in particolare prima di vedere questa coin Però vi vorrei parlare di Dogecoin Perché ha delle similitudini Molto ma molto forti Per cui andiamo prima a vedere Dogecoin E mi vorrei concentrarlo Ok sul suo grafico Sulla sua nascita E poi perché Shiba potrebbe fare una cosa simile a Dogecoin Naturalmente come sempre non sono consigli finanziari Ma questo video ha solamente uno scopo Di tipo educativo e culturale Quindi per informarvi su questa coin Poi se volete sarete voi a comprarla Io vi illustrerò anche dove potenzialmente Ok potete comprarla E così via Allora andiamo a vedere Dogecoin Vorrei vedere un po' la sua storia Innanzitutto Dogecoin l'ultimo anno Ha fatto il 3278% E la coin Che ha avuto il maggior ROI Ok rendimento Dogecoin sostanzialmente è un progetto Che non serve a nulla Ok ve lo dico subito Però è sotto diciamo l'ala di Elon Musk Che molto spesso che twitta su Dogecoin E di conseguenza ha impennato il suo prezzo Però il nostro amico Elon Ha iniziato anche a twittare su Shiba E' per questo che ve la voglio riportare Allora Dogecoin sta come capitalizzazione In quindicesima posizione E' una capitalizzazione di mercato di 7 miliardi Ok Quindi insomma Una capitalizzazione molto alta Però vorrei mostrarvi dove stava Dogecoin Qualche anno fa Allora è nata in 2014 Per tantissimi anni sostanzialmente nessuno Se l'è mai filata Ok Se possiamo usare questo termine Ha avuto Quindi stava praticamente a Due decimillesimi Ok circa Per più o meno molto tempo Successivamente è arrivata addirittura a tre millesimi Quindi ha fatto un 10 per E nel corso degli anni E' arrivata a 2018 A un centesimo Ora sappiamo che sta a 5 centesimi Addirittura si parla di un dollaro Ora Attraverso questa analogia Vedete Dogecoin Ora sta su Binance Insomma sui principali exchange al mondo Manca Coinbase Ora è un progetto che non serve a nulla Però è raffigurante un cane Per l'appunto Doge Qual è l'analogia con la nostra Coin Sanzialmente Shiba Vorrei mostrarvi un attimo Anche il sito web Ok di Dogecoin Vedete c'è solamente la Questa cosa qui Di Doge Però attenzione Che su Doge Praticamente il sito è chiuso Ok non potete vedere nulla È raffigurante un cane Però guardate qui che cosa c'è scritto Questo è molto importante Doge Is an open source Peer to peer Digital currency Favorita da Shiba Inus Quindi questa frase Ok questa frase Potrebbe Ok causare A Shiba Un aumento di prezzo Secondo me Esponenziale Ok Per cui se volete Condividete anche il video Perché mi sembra un qualcosa importante Ovviamente non sono consigli finanziari Ok Quindi la Coin Che potrebbe far diventare miliardari Come anche perdere tutto Io vi dico la verità Ho messo così giusto per 100 dollari Ok così Per divertimento E via Giusto una cifra simbolica Ok andiamo a vedere allora Shiba Shiba che cos'è? Shiba è simile a Dogecoin Cioè una coin Che non serve a nulla Quindi una shitcoin Non ci danno la capitalizzazione di mercato Io l'ho calcolata circa Siamo sotto Sicuramente ai 10 milioni Ok Quindi una coin molto piccola Addirittura siamo in 2 millesima posizione Guardate qui l'offerta circolante Non so nemmeno dirvi il numero Considerate che Qua siamo A un milione Un miliardo Un trilione E quindi sono Circa mille trilioni Ok Quindi questa è un po' Quello che sta succedendo Vedete i rendimenti Nei ultimi 30 giorni 778% Quindi sono una coin Che sta andando E il suo grafico Sostanzialmente Nasce nell'agosto Del 2020 È rimasta sempre piatta Che è praticamente Sempre a zero Super pump qui Ok Primo febbraio Poi piatta E ora Potenzialmente potrebbe raggiungere Secondo me anche Cifre devastanti Ovviamente dico potrebbe Perché può succedere Come anche potrebbe Crollare Ve lo dico subito Potrebbe essere anche uno scam E quindi morire Dove la potete acquistare? Allora la potete acquistare Su Uniswap Ma vi costerà tantissimo Le swap di Ethereum Se li mandate Attraverso il Metamask Ok Attraverso Outbit In questo caso potete mandare Degli Stellar E quindi Successivamente vendere Gli Stellar E comprare Shib Oppure su Oneinch Ma vi costerà tantissimo Quindi La cosa Più consigliabile È mandarla su Outbit Come vedete È solo su Tre Exchange Per ora Quindi potenzialmente Potrebbe essere Per l'appunto Devastante Sia In bene Che in male Altre cose a dire Vedete il sito di Shib Non c'è praticamente nulla Vi dico la verità Quando guardai io Per la prima volta Il sito di Shib Cioè Circa un mesetto fa Ok Circa in queste zone qua Addirittura anche prima Dicembre Gennaio Che cosa era successo? Che su Shib Proprio era scritto Il nulla Cosmico E Invece ora Sto scrivendo Tantissimi Invece ora Ho visto che C'è tanto Ok Stanno scrivendo Veramente tanto Stanno integrando Però naturalmente È una coin sheet Ok Questo ci tengo Come vedete qua Vogliamo fare degli incubatori Per artisti Addirittura E quindi vedremo un po' Che cosa succederà Qui c'è anche il team E il team è rappresentato Da questi cagnolini Quindi molto simile a Dodge Attenzione Il nostro amico Elon Si è divertito Proprio I'm getting A Shib Inu Cioè lui Sostanzialmente Sembra aver detto Voglio comprare Shib Ok Sto per entrare Su Shib Semplicemente Questa notizia Potrebbe veramente Causare Pensate se Elon Musk Va a comprare Veramente Tantissimi Shiba Potrebbe veramente Causare delle cose Veramente Pazzesche Naturalmente Come vedete qui Mi scrivo anche Per il gruppo Elite Che vi ricordo È aperto Andiamo a vedere Per cui un attimo Quello che è il valore Di Shib Ok guardate qua Io ne ho un po' L'acquistai a 100 dollari Guardate quanti ne ho ora Vedremo che cosa succederà Io li ho Il 80% Chi se ne frega Vi dico la mia Oggi fa il 41% Quindi molto molto bene Al momento Il prezzo Non saprei definirlo Però è tipo 10 alla meno 8 di 912 Ok Così lo definisco Perché non saprei dirvi Che numero è Per cui vedremo un po' Che cosa succederà Su Shib Naturalmente Se ti è piaciuto Questo video Ti ricordo di Di sorgere il bottone Like Di iscriverti al canale E ci vediamo presto Naturalmente Vi ricordo anche I servizi Che offro io Se volete Una lezione individuale Di 30 minuti Il costo è di 25 euro E in più Potete abbonarvi Sia al gruppo Elite Se volete Con costo di 50 euro E al gruppo Premium Al costo di 24 euro Per cui vi ricordo Di studio il bottone Like Di iscrivervi al canale E ci rivediamo presto E ci rivediamo presto E ci rivediamo presto Per cui vi ricordo E 0 1 Un Un Un